Allora, ci sono i pirati, non ci sono i murloc, non ci sono i mech, quindi mech no alla morte, i murloc no galli, eh, xyrella o galliwix lo stesso? Le statistiche dicono che è xyrella, è la migliore qua, ci vediamo Quella 1? No, anche schifo sto shop, ma qual è il migliore taverna 1 che si possa prendere? Con l'HP, la nonna Eh, se mi prendessi il 3-1 con l'HP, frizzassi l'altro, dovrei fare poi la spell e l'HP turno dopo Cosa che potevo fare anche non giocando il pirata, quindi in realtà ho scazzato Non ci sono, non ci siamo, non ci siamo, cioè probabilmente non si so prendere la spell, faccio HP e prendo 3-1, però è una merda A questo punto prendo il doppio naga, il doppio naga ha già più senso Così ha già più senso Vogliamo il secondo pirata, può essere un'opzione Sì, falegname, mi sono già iscritto Tra una settimana inizio il corso per diventare un gendarme Poi smetto di streamare Ciao, Sanen Ok, mi prendendo lui, facciamo tier up Giochiamo il musicista di strada? Allora, giocarlo qui Oltre al fatto che è una coppia Cioè andare a 7 oro turno dopo Ma va ragazzi, ma secondo voi, vado a fare il gendarme? Stavo scherzando, mi ha scritto un messaggio troll Rispondo facendo, rispondo troll Tranquilli, non smetto Se un giorno smetterò non sarà sicuramente perché vado a fare il gendarme poi Comunque dai giochiamo a sto musicista Fera, ti ho nominato in questa live Non so se c'eri quando l'ho fatto E si schianta altro uno qua Niente ragazzi, qua facciamo sicuramente tier up Più un più due più due direi Preso a costo uno Magari pure taunt Farei così 7,9 e si sale Ti nominavo che mi ricordo che mi avevi raccontato Che si poteva schiacciare una macchina con un carro armato Siccome sono stato anche a Las Vegas negli ultimi giorni Però io ho solo sparato Non ho preso il carro armato No ragazzi, non andrò a fare il gendarme Il moroso di mia sorella diventa un gendarme però Jester, grazie mille della sub Me l'ero persa Cinquantesimo mese di sub Non è stata che avevo ringraziato Però un cinquantesimo merita un secondo ringraziamento Non dirlo agli altri Faccio il divertimento E vince Bella Sono andato proprio al battlefield di Las Vegas Quindi con due K e mezzo si poteva Ok, questo non lo sapevo Ho visto a listino prezzi ma quello non l'avevo letto Allora ragazzi, qua si potrebbe fare a livellata Essendo contro Gala Non so se Gala va a prendere il sesto turno Potrebbe essere, potrebbe essere di no Però in realtà andare a prendere Cioè, le stats dicono che la miglior comp è Killbar Sto game In teoria se si fidassimo delle stats Dovrei prendere Corna Musona Neomelodico E Investimento E in realtà si può stare In realtà ci può stare come giocate Frizzo il bandito Frizziamo mai il bandito Avendo il 5-1 Eh, ci potrebbe stare Però le monetine poi Le monetine vanno tirate Non si tengono in mano da scartarle Però sì In partito potuto Siamo con lui a T5 Ci sta Pessimo trade Comunque non si possono prendere Quindi si danni a T5 Ragazzi, dai Non scherziamo Allora ne prendono 14 Però non sono comunque Cioè lui ha preso il pezzo Taverno 6 Più tempo che esista E avrebbe battuto chiunque Ormai i doratori qua Potrei prendere anche la spell Però mi sembra più forte i doratori Con i verospini Perché potreste andare a prendere draccari Scommono con draccari Goal di tutto Altrimenti Libro Il punto è che il libro Mi nabla questo E i doratori Lui rischi di scartarli In entrambi i casi Non c'è una gran combo Col bandito Dillo a tutte E vabbè Questo è più forte Il punto è che non posso Neanche livellare Sto il turno Cioè prendo questo e roll Prendo questa Sì dai vabbè Non c'è una gemma in più Sono 8 9 9 Sotto il k Sotto il k At 6 ragazzi Legit Rimanendo pure al 3 Che devo fa' Canal 2 3 Dove è arrivata la banana? Vediamo il 5-3 Scildato Prendo le monete Basta Però Prendo le scilde Cioè lo faccio 2-2 In pratica Quello è il punto Però Sto è gemma Non le vuole attirare Sul cavaliere lumaca Quindi in realtà Ci sta a prendere Zanna tosta Tocca fare così Grazie a chi è andata in America E' andata molto bene Se vuoi tutto il racconto Trovi inizio live Oggi Prima mezz'oretta Racconto Vari aneddotini Se sei curioso Cosa L'altro Derebona Due volte lo stesso No Ho fatto semplicemente Due volte animazione Qua ho sminchiato il trade Però L'altro trade ho perso Ottimo Se davo questo Era patto In realtà Vabbè Non sta andando bene Grazie secto del settimo Grazie mille Sono davvero così Ingiocabili Verri Mi serve il cleave qua Questo Baffa tutto Però boh Lo vogliamo Boh no In teoria no Il problema è che Questi qui mi scartano I doratori Comunque Due uno Serverebbe il cleave A me qua Serverebbe il cleave Un altro 5-3 Si può prendere Dipla di 5-3 Non so se ci stia Probabili Sia il vero Combattimento Non dirlo agli altri Non mi ricordo Se ti apriamo il doratore E se ti apriamo così Io me la devo rischiare In questo modo Mi scaso il doratore E mi metto a piangere Oddio Oddio Via Forza Forza Sono tutte forti Quella è la più forte Questo Quello fa una magia extra Più che altro Questo lo posso goldare Eh già E questo qua Faccio il 2-3 Che fa un giro di vita E salgo Quindi Probabilmente salta Il cavalier lumaco Eh la giocata è questa Ehm Lui deve scartare 1 Quindi devo tenere 2 Oppure lo metto qua dietro Non so che ho il morto Ma le tiro le carte Non voglio perdere col morto Buona battaglia Questa ha fatto la stessa comp nostra Più almeno ci stava provando Non so ragazzi Sembrava forte Col dare quello lì Vedete su scarta E dà più 5 E più 5 a tutti Qui questi scartano Dà altri più 5 E più 5 a tutti Questo mi sembra più forte Che dare più 5 E più 5 Ogni singola gemma Ragazzi Non so voi Cioè È fortissima sta combo Allora Servono i pirati Quindi direi che non si Sì sì Ne basta tenere una E mettere loro davanti Rispetto a questo Allora In 5 a 5 con 10 gemme Parliamo di almeno 50-50 ogni turno Bene Questo qua Con questi qui Scarta 3 Le gemme danno 6 più 3 Sì Sì 6 3 Per 7 Per 3 È di più Comunque Level clear Anche la spera 2 di naga È buona Questa è esattamente questa Che tiro anche Poi Lui non vale la pena Serve il clear Ragazzi Come abbiamo detto Che non sto trovando Però mannaggia Riscovere un vero Può essere accettabile Un altro di quello È buono Sono attrice di bongo Non so se la voglio Sono attrice di bongo Direi più forte Che fare 10 Ci sta Tiro tutto Draco Scarta tutto Che cazzo di build ha fatto Mamma mia Cosa Cosa Triple trade Su barone di fila Questo raga Meritato Per averci infilato 15 danni prima A turno 5 Qua ho scolato di peso Ragazzi Lui era fortissimo Per turno 10 Sì era da prendere draccai Ragazzi Era da prendere draccai Ma questo gli ha tirato Una scammata Che Allora Questo da far saltare Magari sposto le gemme Se riesco Lui ha le bestie Quindi questo va preso Bello bran Bello questo Non so se prendere bran Con l'hp Il punto è che Prendere bran Con l'hp È forte Se trovo il 3-4 Altrimenti Qui Che si fa Questa non la posso Fare sulle spelle Cioè Devo vendere questo Per questo E questo per cleave Alla fine Basta Questo non dorme Allora 3 cleave Ragazzi Cleave triple Solo sul 2-3 Per dare vite Si può fare Si può fare Un altro 4-5 Per me questo Non serve Non serve lui Incontriamoci poi Del doratore Vabbè Questa è buona Un servitore in meno Una moneta Quando la naga È questo Ho solo Ho solo questo Solo questo È il primo Ma io ho la naga Era meglio la naga Non ho già me Vabbè Tiro tutto Chiaramente qua Era forte Draccai Bello Bello Cioè quello di prima Cioè quello di prima Cioè quello di prima ragazzi Aveva un barone dorato Un barone normale Turno 10 Mi abbiamo vinto Perché abbiamo tirato Due colpi su barone Cioè E uno era anche scudato Tra l'altro Ho colpito Con un mio windfury Il barone scudato E il barone normale Poi con il 3 dopo L'altro barone Cioè il barone Che era rimasto in vita Quindi questo qua Non ci fa assolutamente Nessuna paura L'unica cosa che va a prendere Magari era barone Ragazzi Ma tanto alla fine L'unica cosa che fa C'era barone Era da ben altri Bellatore Cioè non scomma Con gli altri Vabbè Vabbè Serve il cleave È tripadisto qua Questo sembra figo So se è worth it però Cioè lo stato attuale Il 5-8 Mi attiva Non è Non è forte Secondo me Più forte è una naga Che quello lì Serve le naga E i cleave Alto 3-4 Non morti Bestie Non morti Pirati Pirati È forte sto qua Yes Roll Mi faccio saltare Sono attrice di bongo Mi sa Deve saltare anche vandala In realtà Visto le comp degli altri Vandala non è che sia fortissima Altro 4-5 No Non spazio Serve cleave Cleave Questa in realtà È accettabile Va bene Ecco c'è già questa Faccio questa qui per ora Io lo dico sempre Fai le cose in grande O non farle affatto No no Perché l'ho tirata lì E poi in positioning Ho veramente spostato quel pezzo No ok È sfasato da sola È winnable comunque Questa partita Cioè Galacron era palesemente Il più forte della lobby Non ce l'ho Siamo beccati Nei due turni peggiori E uno di due Sono riuscito a scularlo Ma ho sfigato Nel beccarlo Cioè Stiamo contro Non morti Non morti Pirati 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 con potricidio Non avrà pirati Ecco Lo sapevo che Questa Era a tirare Vabbè Tra il cleave Un'altra di quelle Comunque l'ho pagata uno Va bene Questa qua Ragazzi Cioè io ho ripetuto Affare sul bandito Però Alla fine Ti dà tre gemme in più E non vale Sei Sei oro Le prende a caso Scarta una carta a caso Alla fine La cosa forte È questa È questa qua Che Permette di baffare tutti Ragazzi sta Da fine tre o quattro E Ma Lui Teoricamente Potrebbe avere anche APM Io comunque devo pensare che Questi qua vanno tenuti In ogni caso L'unica cosa che posso fare È spostare le gemme Triplare questo E mettere cleave Quindi c'è queste carte qua Perché sarebbe bello In realtà anche fare Altre naga Però dovrei Trovare lo spazio Per poterlo fare Se no Non me lo fa Tipo anche questo È bello Ma non ha senso Vendere quello Per far quello No Sono abbastanza Loccato At the moment Che live Introvabile Anche la spela Due di naga Sarebbe tanta roba In nulla Ah di niente Tiro le mie carte Probabilmente mi tengo solo questa A questo punto scarto lei Tanto sono Fai decisivi questi Scarto questa E va bene così Vogliamo frizzare Il mio bidone Non è male Il punto è che Finché non trovo di nuovo Quella che sposta le stazze Non so se lo voglio frizzare Non è male però Si era doppia Quindi Sono tante stazze È frizzabile Cioè anche lui Vale la pena prenderlo Però è forte E dai Solo se trovi la spell Che sposta le germe Questo è battibile Bello E' parico Bentornato Torna festa Grazie Fischer Grazie mille Figo Cioè alla fine il turno è buono Andare al 6 Aiuta qualche vantaggio Non in particolare Se non fare un danno in più Che potrebbe essere rilevante Potrebbe essere rilevante Vediamo un pezzo in più a roll Poi ci sta Oh yes Esattamente quella che cercavo Tre qua Allora Teoricamente Questa qua Dovrei tirarla Da come è messo Oppo Cioè dipende Chi di due vince Questa qua Perché in teoria sarebbe Dovrei spostare tutto Sul mio bidone Ma per farlo Dovrei rinunciare a uno di questi Cioè non ho spazio Ora per mettere il mirmi E spostargli tutto sopra Probabilmente lo farò turno dopo Rischiando E basta Altro mirmi Non male Questo ne scarta una Eh va fatto adesso No Prendiamo Facciamo spazio il mirmi Prendiamo ancora Tre Cioè dipende tutto anche da cosa Se hai l'ultimo fight Devo far saltare loro Dai qualcosa incastriamo Anche doratore Se farlo su mirmi è forte Spero non mi scarti Gem è doratore Vediamo Morto lui Quindi anche questi Sono obsoleti I tuoi servitori Hanno davvero dato tutto Ok L'ho scartato Eh Va bene Allora Quindi Questi devono andarsene Quelli devono andarsene Devo mettere mirmi Dorarlo Tirare tutto sopra So che devo tra l'altra Spella uno Sì io tra l'altro Spella uno Due due vale la pena Prenderlo Prima lo rilievo Tre tre Azzo bello quello Si fa Allora questa va Qui La strega La strega La strega Strega golden Ha senso? Che forte di questi Unisco le stats Non sono convinto Che prendere lui Abbia Abbia senso Cioè che guardare lui Sia più forte Ormai lo faccio Bene così Vediamo Questo si presenta Con un H4-8 Senza neanche Dargli poison Disrespect Totale Morto Posto Olè Cioè i verdi Ragazzi però Sono stati solo Nei primi posti Sì 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 Grazie.